Guardate questi festeggiamenti, in parte sono già acqua passata. Si dice che nella vita la felicità duri poco, bene, nel calcio dura ancora meno. Pensate alla fine del girone di andata del campionato di Serie B, Regina seconda con mezzo piede in Serie A, l'altro piede e mezzo è quello del Cosenza che però, in virtù dell'ultima posizione solitaria, si trova praticamente in Serie C. Pensate anche alla sera del 28 febbraio, la storia cambia in tre minuti, alle 22.20 la Regina è con più di un piede nei play-off, il Cosenza, quasi tutti e due in Serie C. Ora è 22.23 la Regina deve ancora giocarsi in play-off, il Cosenza spera nella salvezza. Guardate ora la situazione, il Cosenza ha festeggiato la permanenza a un certo punto isperata in Serie B, la Regina rischia di non esserci. La volatilità del mondo del calcio quindi si rivela in tutta la sua bellezza ed amarezza, a secondo dei punti di vista. Solo qualche tempo fa questo signore stava mandando in paradiso i tifosi alla Regina, quelle del Cosenza invece, meglio non dire dove volevano mandare il loro patron, questo signore era considerato infatti l'emblema del fallimento del Cosenza. Pochi giorni fa invece la notizia del suo rinnovo è stata salutata con entusiasmo dagli stessi tifosi che prima lo contestavano, mentre il rapporto fra i supporter Amaranto e il patron Saladini oggi è diametralmente opposto. La settimana che si è appena aperta sarà dunque decisiva o forse no. Certamente conosceremo il risultato del primo ricorso della Regina, potrebbe essere però solo una prima puntata di una storia che caratterizzerà l'estate calabrese e italiana. Già italiana perché certe cose accadono solo nel calcio italiano. Negli altri campionati non si arriva al 3 luglio senza sapere in che categoria giocherà una squadra, né si portano avanti i penalizzazioni del campionato in corso. L'impressione è che dietro la battaglia fra Regina e Covizoc vi sia anche quella fra giustizia ordinaria e sportiva. Quest'ultima, appare evidente, comunque vada, ha rivelato la sua inadeguatezza nel corso dell'ultima stagione. Le regole del resto sono proprio come la felicità e la disperazione nel calcio, a volte rigide, a volte totalmente inesistenti. Peccato solo che l'unica cosa a non essere volatile è la passione dei tifosi che ci sono stati ieri, ci sono oggi e ci saranno domani. La parte migliore di un calcio che proprio non li merita. La parte migliore di un calcio è un calcio.